I grassi sono sicuramente fondamentali in una dieta carnivora, già in una dieta chetogenica ovviamente, ma anche in una dieta carnivora, prima di tutto perché sono un macronutriente essenziale assieme alle proteine e senza non potremmo vivere, inoltre ci servono per avere energie a sufficienza all'interno della nostra giornata, se segui una dieta carnivora non consumi più carboidrati o comunque al massimo ne consumerai in piccolissime quantità che non sono sufficienti a darti energia a sufficienza all'interno della giornata, quindi hai assolutamente bisogno di consumare alimenti ricchi di grassi, inoltre i grassi sono anche fondamentali per la corretta assimilazione delle vitamine liposolubili e per la produzione di ormoni, quindi la prima cosa da fare quando cominci una dieta carnivora se copri la carne dal macellaio è quella di dirgli che non deve assolutamente rimuverti il grasso dalle bistecche, e quindi la prima fonte di grassi nella dieta carnivora è proprio il grasso che si trova vicino alle bistecche, quindi il grasso della carne. Se segui il mio canale da un po' sai già che io consiglio assolutamente la carne di animali ruminanti come manzo o agnello, e se sono carni grass fed che è sicuramente meglio, ossia sono carni di animali che sono stati nutriti ad erba, il suo valore nutrizionale sarà ancora più elevato, la carne avrà un contenuto maggiore soprattutto di omega 3 e di CLA, acido linoleico coniugato, e questo farà sì che il grasso in più che vai a consumare sarà benefico e non infiammatorio. La seconda fonte di grassi, che devo mettere al secondo posto perché è molto importante, sono gli organi grassi. Vedi, quando fai una dieta carnivora non devi consumare solamente carne, acqua, sale e basta, ma c'è bisogno anche di consumare gli organi, gli organi tra cui quello più importante in assoluto ovviamente è il fegato, ma ci sono anche i reni che sono molto molto nutrienti, e poi in un video successivo parlerò delle differenze fra fegato e i reni, anche perché io nella mia dieta carnivora in questo momento sto consumando esclusivamente i reni e non più il fegato, e comunque il fegato in alcune circostanze puoi volerlo consumare meno spesso, magari vuoi focalizzarsi di più sui reni, ma comunque fegato e i reni non sono due organi grassi, ci sono altri organi che contengono molti più grassi che se consumati regolarmente possono apportarti una buona quantità di grassi, e per assurdo diciamo che non avresti bisogno di consumare altre fonti di grassi per quanti te ne danno. Questi organi ad esempio sono il timo, meglio conosciuto come animelle, poi la lingua che è un organo che a me piace tantissimo, assomiglia molto alla carne del muscolo, diciamo, un po' come fosse anche il cuore, è molto simile alle carni esterne. E poi abbiamo il cervello, fonte ricchissima di grassi e soprattutto tra l'altro il cervello contiene anche omega 3, soprattutto DHA e DPA in più piccole quantità. Gli organi, dicevo, sono fondamentali perché contengono molti più nutrienti di quelli che si trovano nella carne. Pronto? Tra i vari nutrienti che si possono trovare negli organi e che generalmente non si trova nella carne, c'è anche la vitamina C, come anche nel timo, ma anche nel cervello. E il timo, se mi segui da un po', lo saprai che è uno dei miei organi preferiti, sia come sapore e sia perché apporta molti grassi, sia perché contiene molti nutrienti, tra cui anche grandi quantità di vitamina C. Poiché la maggior parte delle calorie deriva dai grassi, quindi sappiamo che ogni grammo di grassi contiene 9 calorie, mentre invece ogni grammo di carboidrati e proteine ne contiene 4, combinando carni magre e carni grasse otterresti non solo tutti i nutrienti possibili e immaginabili, ma anche tutti i grassi che ti servono. Occhio però a non esagerare con gli organi grassi, il mio consiglio è quello di consumarli assieme alla carne più magra, perché altrimenti se mangiassi solamente organi grassi in continuazione, oppure carni grasse più organi grassi, potrebbe essere un problema, visto che i grassi in eccesso chiaramente potrebbero condurti a problemi di digestione, diarrea e cose simili. A me capita sempre, cioè se eccedo con i grassi, succede, la diarrea è dietro l'angolo. Questo perché il corpo si deve abituare, devi procedere gradualmente per far sì che il tuo corpo si abitui a quella quantità di grassi, perché più grassi consumi, più il corpo deve adattarsi, deve produrre più bile per digerirli, eccetera eccetera. Quindi per i nutrienti che contengono gli organi grassi, per me si aggiudicano il secondo posto. Al terzo posto troviamo il midollo, che anche è un ottimo alimento grasso, perché contiene gli stessi nutrienti che si trovano chiaramente nel brodo di ossa, perché il midollo, così come il brodo di ossa, derivano appunto dalle ossa, che sono la fonte in natura più ricca di calcio, prima di tutto. Poi farò un video anche sulle fonti di calcio nella dieta carnivora, perché chiaramente è un nutriente, per quanto non molto importante, ma comunque che si trova meno nella carne, molto poco nella carne, ma che se si fa una dieta carnivora fatta bene, si ottiene grandi quantità anche di calcio e non c'è assolutamente bisogno di preoccuparsi. Inoltre il midollo contiene anche vari elettroliti, ho fatto un video sul midollo, quindi se vuoi saperne di più al riguardo, ti metto in alto la scheda con il video sul midollo. Poi al quarto e quinto posto, io metterei rispettivamente, quarto posto, olio di fegato di merluzzo, che io ho provato, poi farò anche un video per parlarti di questa esperienza, e al quinto posto metterei gli oli di pesce, quelli generici, ok? L'olio di fegato di merluzzo chiaramente è superiore al semplice olio di pesce, perché l'olio di pesce contiene chiaramente DHA e PA, DPA, quindi di omega 3, è un ottimo integratore di omega 3, in aggiunta a questo però l'olio di fegato di merluzzo contiene anche la vitamina A in formativa, retinolo, contiene anche la vitamina D3 in grandi quantità, ed è uno dei pochissimi alimenti che contiene la vitamina D3 in grandi quantità, dopodiché contiene anche la vitamina K2 e poi contiene anche piccole quantità di vitamina E e anche piccole quantità di iodio, quindi sicuramente è molto superiore rispetto all'olio di pesce, quindi quarta posizione olio di fegato di merluzzo, quinta posizione oli di pesce, che si possono comunque consumare generalmente al mattino, si può anche aggiungere nel brodo di ossa, se bevi il brodo di ossa al mattino, o puoi aggiungerlo anche all'interno del pesce, della carne, puoi metterlo come condimento, quindi aumentare ulteriormente l'apporto di grassi benefici omega 3 e anche altri nutrienti nel caso in cui consumi l'olio di fegato di merluzzo. Al sesto posto io metto il burro crudo, grass fed, quindi di animali nutriti esclusivamente ad erba, all'aria aperta, ok? Il burro crudo è un alimento che ho cominciato a rivalutare parecchio perché anche l'ho provato e tuttora lo consumo giornalmente, quotidianamente. Poi farò un video anche per parlare del burro crudo perché ci sono molte cose da dire e l'ho provato di persona, quindi ho fatto esperienza con il burro crudo e ci sono cose da dire, positive e negative, però nel mio caso più positive che negative. Anche il burro crudo è una buona fonte, diciamo, alternativa di retinolo, quindi vitamina A informativa e contiene anche una modesta quantità di vitamina D e di vitamina E. Sicuramente è un'ottima fonte di grassi se viene appunto digerito bene e se si tratta di burro crudo, non pastorizzato, grass fed, quindi deve essere qualitativamente superiore rispetto a tutti gli altri burri che si trovano in commercio. Al settimo posto mettiamo i tuorli d'uovo, per quanto il tuorlo d'uovo sia nutrizionalmente molto superiore al burro, però le uova possono dare problemi a delle persone, soprattutto se queste persone soffrono di malattie autoimmuni. Come il sottoscritto, quindi è facile che con un consumo prolungato possa dare fastidio. Non ho mai provato però tuorli d'uovo veramente, di animali veramente nutriti per bene, quindi potrebbe essere la stessa situazione del burro, poi magari in futuro proverò qualcosa di diverso e ne parlerò per bene. Comunque il tuorlo d'uovo è assolutamente un super alimento e altre prove che si possono fare con i tuorli d'uovo per persone che non li tollerano, è provare il tuorlo di altri animali, come quelli di anatra piuttosto che di gallina. Sono tutte prove che si possono fare nel tempo, chiaramente con un po' di pazienza si potrà provare tutto, però la maggior parte delle persone comunque non ha accesso alle uova di anatra, oppure si potrebbero provare le uova di tacchino, uova di struzzo, di altri animali, ma la maggior parte delle persone non ha accesso a questi alimenti, quindi ognuno dovrebbe valutare chiaramente in base agli alimenti alla quale ha accesso, soprattutto agli alimenti di qualità migliore che riesce a reperire. Io riesco a reperire il burro crudo non pastorizzato, grass fed, di ottima qualità, quindi utilizzo questo. Se tu riesci a reperire dei tuorli d'uovo di ottima qualità di animali nutriti per bene, prova i tuorli d'uovo. Comunque chiaramente il tuorlo d'uovo, dicevo, è un super alimento, ci ho fatto anche diversi video al riguardo, è una fonte eccellente di colina, di vitamina B12, di selenio, di fosforo, di folato e anche di vitamina D, contiene anche piccole quantità di DHA, ottima fonte anche di colesterolo e prima parlavamo di calcio, diciamo che è anche una fonte buona di calcio. All'ottavo posto metterei l'olio di cocco. Attenzione, qua stiamo parlando di etacarnivora. Le persone dicono tu sei dogmatico perché è solo la carne. No, allora, ogni cosa provala su di te. Io ho provato l'olio di cocco su di me. Se lo consumo crudo, poi ci farò un video anche sull'olio di cocco, per parlare appunto della mia esperienza. Se consumo un olio di cocco di qualità, quindi spremuto a freddo, non lavorato industrialmente, non deodorato, insomma non processato, ok, e lo consumo crudo, non ho assolutamente nessun problema e l'olio di cocco tra l'altro sappiamo che è ricco di grassi saturi, di cui la maggior parte è acido laurico, contiene acido miristico. Dal punto di vista nutrizionale è un ottimo alimento, quindi se puoi consumarlo una volta ogni tanto, oppure anche con regolarità, ma magari non tutti i giorni, ma comunque a livello generale secondo me non avrai alcun problema. E se non hai accesso ad altre fonti di grassi, per me puoi benissimo provare a consumarlo e vedere come vai. Molte persone potrebbero dire che l'olio di cocco non va bene semplicemente perché è vegetale. No, questo è essere dogmatici, prendere un alimento e dire quello è vegetale non va bene, quello è animale invece va bene. Stessa cosa che fanno i vegani, per cui quello è vegetale va bene, quello è animale non va bene. No, 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 questo è dogmatismo, io non ragiono in questo modo, io provo su me stesso e quello che ho visto su me stesso è che l'olio di cocco è molto meglio rispetto ad altri alimenti grassi che magari sono di origine animale, ma mi danno problemi. Per esempio ho provato la pancia del manzo e mi ha dato dei problemi allucinanti, dolori alle dita, alle articolazioni delle mani, incredibile. Non so il motivo, ma piuttosto che consumare la pancia di manzo, che adesso non consumerei mai per le reazioni che ho visto, consumerei sicuramente l'olio di cocco crudo, spremuto a freddo, eccetera, eccetera. Altra cosa è il nono alimento che consiglierei, ma solamente se grass fed, il grasso del rene, il grasso del rognone di manzo, che io consumavo quando vivevo in Georgia, prima di tornare in Italia, evidentemente era un grasso diverso da quello che riesco a reperire in Italia, per cui quello che trovo qui in Italia non mi va bene, mi porta psoriasi, mi fa stare male di nuovo, mentre invece l'olio di cocco non mi dà nessun problema. Quindi, vedi, ognuno deve sperimentare su di sé e vedere le reazioni sul proprio corpo. L'olio di cocco è vegetale, ma non mi dà problemi, rispetto invece ad un grasso del rene che mi dà problemi e non pochi. Comunque il grasso del rene, quindi per questi motivi, io lo consiglio solamente se è grass fed, anche perché sappiamo che è nel grasso, nel tessuto adiposo degli animali, anche nel nostro, quindi anche nel nostro grasso, si concentrano tutte le tossine, il nostro corpo porta dall'altro anche sostanze come, ne parlerò in prossimi video, come il bromo, sostanze tossiche che il corpo non può smaltire subito, ma deve accumulare in qualche parte del nostro corpo per fare in modo che non sia nocivo e non ci rechi danni sostanziali. Quindi che fa? Lo deposita nei grassi. E se noi andiamo a consumare dei grassi di un animale che è stato nutrito male, ha vissuto in modo non naturale, per cui stressante, chiaramente andremo anche quindi ad accumulare quelle sostanze tossiche e probabilmente ad avere sfoghi sulla pelle per chi ha problemi sulla pelle, altri problemi di salute per chi ha altri problemi di salute. Quindi queste sono per me le 9 migliori fonti di grassi nella dieta carnivora. Grazie mille per aver guardato questo video, io sono Roberto del canale Diario Carnivoro, qui facciamo reale informazione sul mondo dell'alimentazione. Da oggi puoi anche supportare il canale, nella descrizione trovi il link appunto per supportare il mio canale, per aiutarmi a fare sempre più video. Infine clicca sul tastino mi piace se questo video ti è piaciuto e condividilo sui social network. Grazie a tutti.